L'uomo del nostro tempo, costantemente incentrato sul fare e freneticamente impegnato nella molteplicità delle azioni che riempiono le sue giornate, dovrebbe di tanto in tanto rileggere alcuni versi di una poesia di Camillo Sbarbaro, nei quali emerge in modo evidente che l'oggetto del desiderio non viene perseguito nell'azione, nell'affanno, nella quantità delle cose che facciamo, bensì solamente nell'esperienza di una presenza che può divenire risposta e che al contempo suscita una rinnovata nostalgia. Ora che sei venuta, che con passo di danza sei entrata nella mia vita, quasi folata in una stanza chiusa, a festeggiarti bene tanto atteso, le parole mi mancano e la voce, e tacerti vicino già mi basta. Grazie. Grazie.